Mezzanotte 56, ultima edizione del telegiornale. Buonasera, cominciamo subito con darvi conto delle condizioni di salute del presidente emerito Giorgio Napolitano. In questi minuti è sottoposto ad un intervento chirurgico. È stato ricoverato nel pomeriggio all'ospedale San Camillo di Roma per un malore. Si è trattato di una dissecazione della orta. Il presidente emerito è entrato in sala operatoria alle 23. Lo sta seguendo l'equip del professor Musumeci. Si attende un bollettino medico attorno all'1.30. Questo è tutto quello che sappiamo di quello che sta accadendo in questo momento al San Camillo. Vediamo a quella che è stata l'altra notizia della giornata, la notizia politica ovviamente, le consultazioni del presidente della Camera, Fico, che ha incontrato oggi prima la delegazione del Partito Democratico e poi quella del Movimento 5 Stelle. La novità è che ci sono delle aperture da parte del Partito Democratico, ma anche tante altre cose. Vediamo. Al termine del colloquio con il presidente incaricato Fico, il capo politico pentastellato Di Maio spiega che la prima richiesta del PD è accolta «Con la Lega è chiusa ogni ipotesi di dialogo. Abbiamo apprezzato le parole di Martina. Vanno nella direzione di un'apertura. Però, avverte, qualsiasi contratto di governo dovrà essere ratificato dai nostri iscritti sulla piattaforma Rousseau». Il reggente Dem, Martina, infatti, poco prima aveva detto «Se i 5 Stelle confermano la fine di qualsiasi tentativo di un accordo con la Lega, siamo disponibili a valutare questo nuovo e importante scenario». Martina aveva poi assunto l'impegno ad approfondire questo percorso di novità con tutto il partito, coinvolgendo in primo luogo i nostri gruppi dirigenti. La direzione Dem si riunirà la prossima settimana. Ma Di Maio dice anche altro. «Se fallisce il dialogo con il PD, spiega, per noi c'è il ritorno al voto», decide Mattarella, e poi si dichiara contrario sia ad andare all'opposizione sia a sostenere un governo alternativo, tecnico del presidente o di scopo. Ma i problemi nel PD non mancano per un sodalizio con il movimento. I renziani puntano i piedi e dicono esplicitamente no ad un governo con i pentastellati, ma non mancano i dialoganti come il ministro Franceschini e i sindaci Dem delle principali città e i presidenti di Piemonte e Lazio. Intanto le parole di Di Maio irritano il leader della Lega che lo accusa di essere irrispettoso nei confronti degli italiani e dei propri elettori, anche se Salvini non arriva alla rottura definitiva e ripete «Se Di Maio vuole smettere di polemizzare e di aiutarmi a ricostruire questo paese, io come leader del centrodestra sono pronto». Donald Trump invierà la prossima settimana una delegazione in Cina per affrontare la questione dei dazzi, la guerra commerciale, uno degli argomenti di cui Trump oggi ha parlato con Emmanuel Macron, ospite per una importante visita di Stato negli Stati Uniti. Vediamo come è andata. «Sono soddisfatti i due presidenti al termine dell'incontro nello studio ovale. Pensiamo di aver trovato soluzioni ad una serie di questioni, dichiara il presidente americano, tutti scottanti e delicati temi sul tavolo. Il primo in agenda è il programma nucleare iraniano. Trump non ha mai negato di voler uscire dall'accordo firmato tre anni fa da Barack Obama e lo ha ripetuto anche oggi, serve un nuovo accordo con basi solide. Macron però ha difeso l'opposizione francese, condivisa anche dalla Germania. L'accordo sul nucleare iraniano è un tema importante, ha spiegato che va visto nell'ambito di una questione più ampia che la stabilità nella regione. Desideriamo lavorare ad un nuovo accordo». La risposta di Teheran arriva dal ministro degli esteri Zarif. l'Iran probabilmente si sfilerà dall'accordo sul nucleare, qualora gli Stati Uniti lo dovessero annullare. Altra questione sul tappeto dei due presidenti, la crisi siriana. Il presidente americano ha apprezzato l'aleato francese, che assieme al Regno Unito hanno sostenuto l'intervento in risposta al presunto attacco chimico su Duma ed ha chiesto a Macron di essere forti ed uniti. Segnali di dialogo sono venuti sul fronte nordcoreano. Trump ha annunciato che l'incontro con Kim Jong-un potrebbe esserci molto presto. affrontata anche la questione dei dazi commerciali. Le relazioni con l'Unione Europea, ammesso Trump, sono molto complicate e preferirei trattare solo con la Francia. L'Unione Europea è molto dura per noi, hanno barriere commerciali inaccettabili. Occorre fare dei cambiamenti. La vicenda di Alfie Evans, il bambino di quasi due anni di Liverpool, di cui si sta parlando molto in questi giorni. Ieri gli è stata praticamente staccata la ventilazione, la idratazione e nutrizione assistite. Il bambino ha resistito per diverse ore senza respirare e poi è stato comunque aiutato dall'ossigeno. Però da 24 ore non viene nutrito e i genitori per lungo tempo gli hanno fatto anche la respirazione bocca a bocca. Dopo la concessione della cittadinanza italiana, la famiglia si aggrappa così alle ultime speranze, chiedendo di poter portare il bambino nel nostro paese, dove due ospedali, il bambino Gesù di Roma e il Gaslini di Genova, sono pronti ad accoglierlo per le cure palliative. E dove sarebbe stato portato con un volo speciale. Ma il giudice, questo si era scritto il capitolo finale, il bambino resta un cittadino britannico, è sottoposto alle leggi del paese dove è nato e dove è ricoverato. Potrà tornare a casa al massimo entro cinque giorni, ma non potrà assolutamente venire in Italia. Queste sono le ultime parole della giustizia inglese sul caso del piccolo Alfie. E a proposito di giustizia, è arrivata dopo 31 anni la sentenza di primo grado per l'omicidio di Lidia Macchi, una studentessa che fu trovata morta in un bosco vicino a Varese. Vediamo. A 31 anni e 3 mesi dai fatti, il delitto Macchi non è più un cold case. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Assiste di Varese, che hanno condannato in primo grado la pena dell'ergastolo Stefano Binda, 50 anni, ex compagno di ricevo della vittima, unico imputato nel processo. Come autore del delitto di quella giovane studentessa, Lidia Macchi, uccisa con 29 coltellate nel gennaio dell'87 in un bosco di Cittiglio vicino a Varese, dopo aver subito violenza sessuale. L'omicidio Macchi fu il primo caso in Italia in cui si ricorse al test del DNA, ma non è stato quello a inchiodare l'imputato. L'inchiesta si riapre un anno e mezzo fa, dopo che una super testimone riconosce la sua calligrafia in una lettera a poesia recapitata alla famiglia il giorno del funerale della ragazza. È rimasta anonima fino ad allora. Una perizia calligrafica inchioda a Binda che viene arrestato. Nella sua casa, gli inquirenti trovano dei fogli sospetti. Stefano, barbaro assassino. Sei fregato, potrebbero strapparti gli occhi per quello che hai visto. E una fotografia di Lidia Macchi conservata nella sua agenda. Binda si è sempre dichiarato innocente, fornendo alibi e giustificazioni al contenuto di quei fogli, che nulla avrebbero a che fare col caso Macchi, ma i giudici non gli hanno creduto. Oggi è rimasto impassibile all'ascolto della sentenza. I suoi legali, che avevano chiesto la soluzione, faranno ricorso in appello. In aula, presenti anche i fratelli e la madre della vittima, che ha commentato «Ho sempre cercato il colpevole di questa vicenda, non un colpevole a caso, dopo quello che è venuto fuori nel processo. Penso sì a lui». Lo sport e il calcio semifinale di andata di Champions League. la Roma in trasferta, travolta dal Liverpool che giocava in casa. Vediamo come è andata. Con il Barcellona la Roma ha compiuto una missione impossibile e con il Liverpool ci sarà bisogno di un autentico miracolo sportivo. Il 5-2 di Anfield è un risultato che racconta di due partite in una. La prima, quella degli uomini di Klopp, che dopo aver rischiato in avvio, traversa di Kolarov, dilagano in velocità. Il Liverpool sale sul 2-0 già prima dell'intervallo, grazie alla straordinaria prova dell'ex Salah, gol numero 42-43 della stagione. Nei primi 25 minuti della ripresa, i Reds tramortiscono la Roma in modo che sembra definitivo. Il gol di Manetre, tocchia in porta, la doppietta di Firmino, con l'ennesimo assist di Salah per il 4-0 prima del colpo di testa su corner, sembrano firmare una resa incondizionata da un 5-0 in una semifinale di Champions League. Non è mai tornato indietro nessuno. Ma quando Klopp concede a Salah la standing ovation, la Roma ritrova una unità disperata, anche se forse troppo tardiva dopo gli insedimenti di Gonallonze e Perotti. E soprattutto ritrova il suo numero magico, il minuto 80. Come contro il Barça, Zeko nello stesso giro di lancette rieccende la speranza. Da qui la seconda partita nella partita, quella della Roma. Il rigore di Perotti a 5 minuti dal novantesimo lascia accesa una fiammella di speranza per il ritorno all'Olimpico, che in caso di un 3-0 cancellerebbe persino la mai dimenticata amarezza della finale persa ai rigori, nello stesso stadio, con la stessa squadra, 34 anni fa. È l'1 e 5 minuti, noi ci fermiamo qui. L'informazione, come sempre, torna domani mattina. Arrivederci e buonanotte.